I nobili avvoltoi Gli urriani avevano la loro base sulla luna da ormai 15 anni. Era una cosa senza precedenti, inaudita. Nessuno di loro aveva osato mai pensare che ci potesse essere un ritardo del genere. Erano 15 anni che le squadre di decontaminazione erano pronte, in attesa di un ordine. Erano pronte a superare le nubi radioattive per salvare tutto quanto era possibile salvare per beneficarne i sopravvissuti. In cambio, è ovvio, volevano un adeguato compenso. Ma quel pianeta aveva già compiuto 15 rivoluzioni attorno al suo sole. Durante ognuna di queste rivoluzioni il satellite aveva compiuto quasi 13 giri attorno al pianeta stesso. E durante tutto quel periodo non c'era stata nessuna guerra nucleare. Beh, sì, i grandi primati avevano fatto scoppiare un po' di ordigni nucleari qua e là sul pianeta. La stratosfera era carica fino a scoppiare di scorie radioattive. Però non c'era stata la guerra. Devi N. stava sperando, con tutte le sue forze, che lo sostituissero. Poiché era il quarto comandante di quel corpo di spedizione colonizzatrice, sempre che lo si potesse ancora chiamare così, dopo tutto quel tempo trascorso in ibernazione, sarebbe stato più che contento di cedere il suo posto a un successore. Comunque era probabile che sarebbe stato sostituito assai alla svelta, visto che il pianeta madre aveva annunciato l'invio di un superamministratore che avrebbe dovuto controllare di persona la situazione. È fantastico. In piedi sull'inospitale superficie della luna, chiuso nella tuta spaziale, stava pensando a casa, a Urria. Stava agitando inquietamente le lunghe appendici sottili che gli facevano da braccia, segno certo di irrequietezza, soffrendo di nostalgia mentre pensava agli alberi che erano stati cari ai suoi antenati. Il suo era un istinto che risaliva a milioni di anni prima. Devi N. era alto poco meno di un metro, attraverso il visore dell'elmetto tutto ciò che era possibile vedere di lui era una faccia nera e grinzosa, al cui esatto centro era posta un appendice mobile. A fare da contrasto, si era lasciato crescere una barba bianchissima. Nella parte posteriore della tuta, nella metà inferiore, si notava la protuberanza creata per alloggiare confortevolmente la tozza a coda robusta. Devi N. era ovviamente contento per il proprio aspetto, anche se si rendeva perfettamente conto che esistevano notevole differenze fra la sua razza e tutti gli altri esseri intelligenti di quella galassia. Solo loro, fra tutti, erano così piccoli. Solo loro avevano un appendice caudale. Solo loro erano strettamente vegetariani. Solo loro, fra tutti, erano riusciti a evitare la guerra nucleare che invece era inevitabilmente scoppiata fra tutte le altre razze intelligenti note. Era in piedi al centro di una pianura che si estendeva per chilometri e chilometri e che lui sapeva orlata da alte montagne, tanto che sul suo pianeta natale lo si sarebbe definito un cratere se non fosse stato così largo da non essere avvertibile dai suoi occhi. All'estremità orientale di quel vasto cerchio, contro le pareti rocciose che fornivano un certo riparo dai raggi infuocati del sole, era stata edificata una città. Sorta da principio come semplice accampamento, si era poi estesa con l'arrivo delle femmine che avevano dato vita ai numerosi bambini. Adesso si vedevano scuole, enormi impianti idroponici, giganteschi serbatoi per l'acqua, insomma tutto quello che poteva servire per vivere in un mondo privo d'aria. Una cosa che ora definiva ridicola. Per colpa di un pianeta che pur disponendo di armi nucleari in quantità non si decideva a usarle. E quella sarebbe stata la prima domanda che il superamministratore in arrivo gli avrebbe rivolto, una domanda che si era già fatto anche lui numerose volte. Perché mai quella dannata guerra non cominciava? Teneva d'occhio i MAUV che stavano livellando il terreno per l'atterraggio, eliminando le asperità naturali estendendo lo strato di ceramica che era stato progettato per assorbire lo scarico dei generatori iperatomici, in modo da creare il minimo disagio possibile ai passeggeri dell'astronave. Anche se nascosti dalle tute, si intravedeva la forza compressa dei MAUV, una forza che però era confinata ai soli muscoli. Al comando di quei bruti c'era un urriano, la cui piccola figura contrastava contro le loro moli. Ne bastava uno solo per farsi obbedire docilmente, come era naturale. I MAUV erano l'unica razza, fra i grandi primati intelligenti a loro noti, che pagava il loro tributo con quell'insolito modo, fornendo cioè mano d'opera anziché beni materiali. Per loro era un tributo utilissimo sotto diversi punti di vista, più prezioso di metalli come l'alluminio, l'acciaio o delle spezie con cui altri li pagavano. Il suo ricevitore cominciò a lampeggiare. «Astronave in vista, signore», disse una voce. «Atterrerà fra un'ora, tempo locale». «Molto bene», rispose lui. «Fatemi trovare pronto il mezzo per andardi ad accogliere appena cominceranno le operazioni di atterraggio». A pensarci bene, però, non era convinto che le cose andassero così bene. Il superamministratore era scortato da cinque MAUV, che fecero il loro ingresso in città al suo seguito. Uno gli stava a destra, uno a sinistra, tre dietro. Prima aiutarono lui a togliersi la tuta spaziale, poi si tolsero le proprie. Avevano grossi corpi ricoperti da una sottile peluria, facce larghe con lineamenti grossolani, nasi grossi e guance piatte. Nel complesso erano ripugnanti, ma non incutevano timore. Alti il doppio degli urriani, erano anche grossi il doppio, ma nei loro occhi c'era un'espressione vuota e i loro modi erano quelli di esseri sottomessi. Stavano ritti, tenendo però il collo lievemente piegato e tenevano penzoloni le grosse braccia muscolose. Il superamministratore fece loro cenno di andarsene e il loro scomparvero alla vista. In quel luogo non era necessario farsi proteggere da loro, ma una scorta di almeno cinque mauv era il minimo per uno come lui e lui gradiva questa abitudine. Il problema non venne affrontato né durante le lunghissime cerimonie di benvenuto, né durante il pranzo. Quando venne il momento di ritirarsi per un meritato riposo, il superamministratore si risciò la barbetta e guardò Devi En. Comandante, quanto tempo si dovrà ancora aspettare prima che questo pianeta si decida? Era già alquanto anziano. Sulle braccia gli crescevano peni grigi e quelli che spuntavano alla piega del gomito erano ormai bianchi come la corta barbetta. Vostra nobiltà, non sono in grado di fare previsioni, rispose Devi En con umiltà. Questi esseri non sembrano seguire il solito schema. Mi sembra ovvio, ma io adesso le chiedo perché no. Il consiglio si è reso conto, leggendo i suoi rapporti, che lei prometteva cose che poi non sono avvenute. Lei si spreca in teorie, ma non entra nei particolari. Su Urria siamo stanchi di questa storia. Se lei è in possesso di informazioni che non ci ha ancora fornito, bene, questo è il momento giusto per parlarne. Vostra nobiltà, è molto difficile trovare le prove. Non avevamo mai tenuto d'occhio un pianeta per così tanto tempo prima d'ora. Mi sembra ovvio che ci siamo sbagliati. Tutti gli anni abbiamo previsto con certezza lo scoppio del conflitto nucleare per l'anno successivo, però è stato dal mio arrivo al comando di questa missione che abbiamo cominciato a studiare a fondo quella gente. Durante questa lunga attesa abbiamo utilizzato il tempo per imparare alcune delle loro lingue più diffuse. Senza mai atterrare sul pianeta? I nostri esploratori, si affrettò a spiegare Devienne, penetrando nell'atmosfera del pianeta, hanno captato numerose emissioni radio, specie durante i primi anni. Ho fatto calibrare i decrittatori linguistici per poter comprendere quei messaggi e ho usato quest'ultimo anno per interpretarli. Il superamministratore sbarrò gli occhi. Aveva un'espressione tale che sarebbe stata superflua da parte sua qualsiasi esclamazione di sorpresa. E ha appreso qualcosa di interessante? Credo di sì, vostra nobiltà. Però quello che ho appreso è molto strano. Le prove a sostegno sono così incerte che non mi sono azzardato a farne cenno nei miei rapporti. Il superamministratore fece cenno di aver capito i suoi motivi. Comunque, in via ufficiosa, potrebbe spiegarmi qual è il punto a cui è giunto con le sue riflessioni? Con vera gioia, rispose Devienne. Innanzitutto, gli abitanti di questo pianeta sono primati, bellicosi per natura. L'altro borbottò per il sollievo e si passò la lingua sul naso con una certa soddisfazione. Cominciavo a temere che non fossero bellicosi e che quindi... mormorò. Ma prosegua, la prego. Per esserlo lo sono, bellicosi, voglio dire, sottolineò Devienne, e a un grado superiore della media, per di più. E allora perché le cose non vanno come dovrebbero? Ma le cose vanno come dovrebbero, vostra nobiltà. Però solo fino a un certo punto. Hanno cominciato la meccanizzazione dopo il solito lungo periodo di incubazione, e quindi, da quel punto in poi, le solite scaramucce fra primati si sono trasformate in vere guerre di distruzione. A conclusione dell'ultima di tali guerre, sono entrati in possesso delle armi nucleari. Il superamministratore era soddisfatto. E poi? E poi doveva succedere questo, proseguì Devienne. Doveva scoppiare un conflitto nucleare, nel corso del quale quell'armamento si sarebbe ulteriormente migliorato, fino a raggiungere il più alto potere distruttivo possibile, per cui, usate secondo la solita logica dei grandi primati, avrebbero dovuto ridurre drasticamente la popolazione a pochi individui ridotti alla fame e sovrastati dal pericolo delle radiazioni. Questo lo so, però non è successo. Perché? Qui siamo a un punto nodale, rispose Devienne. Il fatto è che questi primati hanno progredito con eccessiva velocità dal momento in cui sono entrati nell'era della meccanizzazione. E allora, sbottò l'altro, che vuol dire? Semplicemente che sono arrivati a possedere prima di altri le armi nucleari. Esatto. Però, dopo il conflitto recentemente terminato, hanno continuato a perfezionare il loro armamentario con insolita rapidità. È qui, a mio avviso, che sta il guaio. Il loro potenziale distruttivo è cresciuto prima, non durante. Il conflitto nucleare che ci aspettavamo, e adesso sono arrivati al punto in cui non osano più correre il rischio di scatenare una guerra. Gli occhi neri come giaietto dell'amministratore si spalancarono per la sorpresa. Impossibile. A me non importa se questi primati hanno una particolare inclinazione per la meccanica. È risaputo che la scienza militare compie passi da gigante solo durante un conflitto. È però probabile che questi primati costituiscano un'eccezione. Anche adesso siamo convinti che ci sia una guerra in atto, però non è una vera guerra, anche se è una guerra. È una guerra ma non lo è, però è una guerra, riassunse il superamministratore con aria perplessa. Vuol dirmi cosa significa? Non so se ci riuscirò, replicò Devien, facendo ballonzolare il naso con aria afflitta. È qui che mi sono arenato nel mio tentativo di trarre conclusioni logiche da tutto il materiale raccolto e decrittato. Su questo pianeta hanno inventato una cosa che si chiama guerra fredda. Cosa sia non si sa, però spinge furiosamente i primati a fare ricerche belliche che però non portano a nessun conflitto nucleare. Ma è impossibile, sbottò il superamministratore. Però è così, ribatte l'altro. Loro sono lì e noi stiamo qui e sono 15 anni che aspettiamo. Il superamministratore si portò le braccia dietro la testa. Allora rimane una sola cosa da fare. Il consiglio, fra le varie opzioni, ha considerato anche quella che su questo pianeta si sia arrivati a un punto morto, a una sorta di pace bilanciata che impedisce, chissà come, la guerra. Una cosa, se vogliamo, simile a quella che mi ha descritto, anche se a nessuno è venuto in mente quello che mi ha detto. Purtuttavia, non possiamo permettere a questo stato di cose di protrarsi. Proprio no? Vostra nobiltà? No, rispose il superamministratore, con tono che sembrava addolorato. Più durerà questa situazione di stallo e maggiori saranno le probabilità che quella gente scopra i viaggi interstellari e allora comincerebbero a spargersi per la galassia con tutto il loro carico di bellicosità ancora intatto. Adesso capisce? Cosa suggerisce allora? Il superamministratore si piegò in avanti con la testa avvolta dalle braccia come se quello che stava per dire fosse troppo anche per lui. La sua voce giungeva soffocata. Se la situazione è in equilibrio instabile dobbiamo darci da fare per esercitare pressioni. Dobbiamo dare noi la spinta finale. Devi, Ann, sentì un nodo allo stomaco. Sentì che il sapore del cibo stava tornandogli in bocca. Dobbiamo dare la spinta finale? Vostra nobiltà? Ripetè quelle parole sperando che l'altro le confutasse augurandosi di non aver sentito bene. Ma l'altro era irremovibile. Dobbiamo fare in modo che diano inizio alla guerra nucleare. Aveva l'aria di essere quasi più infelice di Devi, Ann. Dobbiamo, capisce? Devi, Ann, era rimasto senza parole. Alla fine balbettò ma come faremo a ottenere un tale risultato? Vostra nobiltà? Non lo so e non voglio saperlo. Non l'ho deciso io ma il consiglio. Lei capisce cosa succederebbe nella galassia se grandi primati intelligenti conquistassero lo spazio senza essere prima passati attraverso la prova di un conflitto nucleare, vero? Quel pensiero fece rabbrividire Devi, Ann, che si raffigurava tutto quel potenziale bellicista a piede libero per la galassia. Mari teneva suo dovere insistere. Ma come si può dare l'avvio a una guerra del genere? Come potremmo fare? Ho già detto che questo non lo so, però ci dovrebbero essere molti modi. Forse, forse potremmo inviare un messaggio o creare artificialmente qualche spaventoso uragano inseminando le nubi o potremmo intervenire a livello climatico apportando dei cambiamenti radicali. E questo porterebbe a una guerra nucleare? Chiese Devien per nulla impressionato da quei progetti. Magari no, dicevo tanto per fare qualche esempio, però quei primati dovrebbero saperlo. dopotutto sono loro che devono scatenare la guerra alle pare, quindi loro lo sanno per certo. È questa la decisione a cui è arrivato il consiglio. Devien si accorse che da un po' di tempo la sua coda stava battendo nervosamente sul sedile. Cercò di fermare quel movimento in consulto ma non ci riuscì. Di quale decisione si tratta? Vostra nobiltà. Dobbiamo catturare uno dei primati andandola a prendere sul pianeta. dobbiamo organizzare un rapimento. Rapire un selvaggio? Sono la specie dominante sul pianeta quindi è ovvio che dovremo prendere un selvaggio. E cosa potrebbe dirci? Questo non importa molto, comandante. L'importante è farlo parlare e mentre lo farà lo scandaglio mentale ci dirà come dovremo agire. Devien ritirò più profondamente che poteva la testa fra le spalle. La pelle delle braccia si stava raggrinzendo per la ripugnanza. Uno di quei primati ha lo stato selvatico. Cercò di immaginarsene uno non ancora beneficato da una guerra atomica e quindi non ancora rimodellato dalla loro influenza civilizzatrice e da un allevamento secondo i loro metodi avanzatissimi. Anche il superamministratore non riusciva a nascondere la sua nausea. La spedizione per la cattura di uno di tali esseri dovrà essere guidata da lei comandante disse si ricordi che è per il bene supremo della galassia. Devien aveva naturalmente visto innumerevoli volte quel pianeta e ogni volta che un'astronave si metteva in orbita attorno a quel satellite esponendo quel mondo alla piena vista sentiva un forte desiderio di casa. Nelle caratteristiche generali come nelle dimensioni ricordava molto Urria anche se questo era più selvatico oltre che più grande. Vederlo all'improvviso dopo il paesaggio inospitale della Luna non gli faceva certo bene. Pensò a quanti pianeti come quello fossero caduti sotto l'orbita di Urria e poi quanti altri ne esistevano segnalati dagli osservatori che avevano notato certi cambiamenti stagionali che potevano solo essere ascritti a un inizio di un'agricoltura organizzata e quante altre volte nel futuro sarebbe giunto il momento in cui il tasso di radioattività nell'atmosfera di quei mondi avrebbe cominciato ad alzarsi drammaticamente segnando il momento in cui le squadre di colonizzazione avrebbero potuto entrare in azione. In questo momento toccava a quel pianeta. Adesso trovava quasi commovente la sicurezza con cui avevano agito da principio gli Urriani. Anche lui avrebbe potuto sorridere alla semplice lettura dei rapporti se adesso non ci fosse stato coinvolto fino al collo. le loro vedette erano scese sul pianeta per raccogliere tutti i dati possibili e per localizzare i grandi centri abitati. Erano state viste certo ma non importava a nessuno perché qualsiasi momento era quello giusto per il dramma finale. Qualsiasi momento? Però gli anni passavano e già gli esploratori si stavano chiedendo se forse avrebbero fatto meglio a usare una maggiore prudenza. E infatti la sua astronave si muoveva con grande prudenza. I suoi uomini erano sconvolti per la missione che li attendeva. Nemmeno lui era riuscito a riportare la calma fra di loro anche se aveva garantito a tutti che nessuno avrebbe nuociuto a quei primati. Però non si potevano certo precipitare le cose. Innanzitutto dovevano scegliere un tratto di terreno deserto e incolto. Per numerosi giorni rimasero in agguato a 15 chilometri d'altezza col nervosismo che serpeggiava sempre più fra l'equipaggio a eccezione dei MAUV che se ne stavano solidamente tranquilli. Sullo schermo apparve infine una creatura che camminava sola in quel paesaggio inospitale. Si appoggiava a un bastone e portava un involto appeso alla schiena. A velocità supersonica e in perfetto silenzio calarono su di essa. Ai comandi c'era lo stesso Devi N che si sentiva raggrinziere la pelle per la nausea. Poco prima di essere catturata la creatura pronunciò alcune parole che vennero immediatamente registrate in vista dell'analisi futura. Quando il primate vide sopra di sé l'astronave si lasciò sfuggire una frase che venne captata dal microfono direzionale. La frase era la seguente Dio mio un disco volante. La seconda parte della frase era chiara per Devi N in quanto conteneva parole ricorrenti per indicare le loro astronavi fin dal tempo delle loro prime missioni esplorative. Quando il primate venne issato nonostante la sua resistenza che nulla poteva contro la forza brutta dei MAUV a bordo dell'astronave pronunciò la seconda frase di quella prima fase. Avvenne quando Devi N il cui naso si stava raggricciando per l'orrore le si fece incontro per accoglierla a bordo. Quella creatura dal volto disgustosamente senza peli e completamente unto da una secrezione interna gridò santo cielo una scimmietta. Anche questa seconda parte della seconda frase apparteneva al novero di parole note a Devi N era la parola con cui su quel pianeta si indicavano i primati inferiori di minuscola taglia. Era molto difficile avere a che fare con quel primitivo ci volle tutta la pazienza di cui erano capaci per farle pronunciare qualche frase ragionevole all'inizio ottennero solo una serie di urla e di strepiti si era ovviamente resa conto di essere stata rapita e anziché considerare il fatto sotto un punto di vista dell'interesse generale ne sembrava terrorizzata parlava in continuazione dei suoi cuccioli e della femmina che sembrava aspettarlo da qualche parte. Devi N si rese conto che anche quelle creature dovevano avere una sorta di relazione familiare e che seppure alla loro maniera dovevano provare dei sentimenti nei confronti dei componenti ma era comprensibile poiché erano grandi primati. All'inizio occorse farle capire che i MAUV la trattenevano per impedirle di farsi del male durante le sue crisi e che non lo facevano per malanimo e che nessuno voleva danneggiarla. Devi N stava male al solo pensiero che un essere senziente potesse nuocere in qualsiasi modo a un'altra creatura. era un argomento che non trattava mai volentieri anche se solo per negare che fosse necessario usare metodi simili in qualsiasi circostanza. Ma quella creatura aveva un'aria estremamente sospettosa in questo del tutto simile ai grandi primati. Passarono cinque giorni e la creatura si era ormai tranquillizzata forse per stanchezza. Devi N allora la fece portare nel suo alloggio per parlarle ma quando le spiegò senza mezzi termini che gli urriani stavano aspettando che cominciasse una guerra nucleare scoppiò di nuovo in alti clamori state aspettando la guerra gridò il primate ma cosa vi rende certi che ci sarà una guerra? Devi N ammise che non aveva alcuna certezza però aggiunse ci sono guerre nucleari dappertutto e noi siamo qui per aiutarvi dopo per aiutarci dopo la creatura sembrava aver perso il ben dell'intelletto agitò con furia le braccia e dovettero intervenire i Mauve per bloccarla di nuovo con dolce decisione prima di portarla via Devi N era amareggiato le parole della creatura sarebbero state ridotte in simboli a beneficio dello scandaglio mentale che forse ne avrebbe ricavato qualcosa per conto suo non era in grado di trarre alcuna conclusione la creatura intanto stava sempre più male aveva un corpo pateticamente privo di peluria un fatto che ignoravano perché li avevano sempre osservati da lontano e i tessuti e le pelli che indossavano rendevano difficile capirci qualcosa forse lo facevano per scaldarsi o forse perché erano disgustati anche essi da avere pelli così lisce poteva essere un argomento di grande interesse da sviluppare per uno studio più accurato certamente lo scandaglio mentale ne avrebbe ricavato dati interessanti col passare del tempo però la faccia della creatura si andava ricoprendo di peli erano più fitti di quelli delle facce urriane e più scuri ma lui era maggiormente preoccupato per il deperimento della creatura che mangiava poco se l'avessero tenuta ancora per un po' la sua salute ne avrebbe risentito e Devien non voleva assumersi nessuna responsabilità del genere la mattina dopo il primate sembrava essersi calmato parlava con una certa impazienza della guerra nucleare era un argomento si disse Devien che doveva esercitare una grande attrazione su quelle creature come fai a dire che ci sono sempre guerre nucleari gli chiese la creatura questo vuol dire che esistono altre specie viventi oltre alla tua alla mia e alla loro disse indicando i MAUV che gli stavano d'attorno le razze intelligenti sono parecchie migliaia e vivono su migliaia di pianeti diversi gli spiegò Devien e tutti hanno combattuto guerre nucleari appena raggiunto l'adeguato livello tecnologico solo noi non l'abbiamo fatto noi siamo diversi noi non siamo bellicisti in noi è forte l'istinto della cooperazione vorresti dire che sai che ci sarà una guerra e che pur sapendolo non vuoi fare nulla per impedirla o no noi facciamo qualcosa disse Devien noi ci diamo da fare per aiutare all'inizio della nostra storia espansionistica quando scoprimmo il volo interstellare non riuscivamo a comunicare con i grandi primati loro rifiutavano la nostra amicizia e così decidemmo di non aiutarli più poi scoprimmo molti mondi distrutti dalle radiazioni finché ne trovammo uno impegnato in una guerra nucleare eravamo inorriditi però non potevamo fare nulla per loro adesso quando scopriamo un mondo che arriva alla scoperta dell'uso dell'atomo ci prepariamo a intervenire attiviamo i nostri apparecchi di decontaminazione e gli analizzatori eugenetici cosa sarebbero questi analizzatori Devien faticava non poco per esprimersi nel linguaggio della creatura comunque cercò di spiegarsi con calma ci servono per controllare gli accoppiamenti e per eliminare secondo quanto è possibile la bellicosità nei nuovi nati e nei sopravvissuti si aspettava uno scoppio di collera da parte della creatura ma quella gli chiese con voce atona insomma gli rendete docili come quelli e indicò i mauve che pazienti gli stavano attorno oh no quelli lì sono diversi noi operiamo in modo che chi sopravvive desideri una società pacifica senza aggressività senza voglie espansionistiche il tutto sotto la nostra guida altrimenti si autodistruggerebbero sì ma voi cosa ci guadagnate De Vienne fissò la creatura e si chiese se davvero doveva spiegarle quale fosse il più grande piacere della vita ma voi non amate aiutare gli altri le chiese lasciamo perdere questo ti ho chiesto cosa ci guadagnate beh quei mondi devono pagare un tributo a Urria aha ma se gli salviamo la specie ci devono qualcosa protestò De Vienne e poi noi abbiamo molte spese i contributi non sono esosi e sono calcolati a seconda della natura dei vari mondi ci sono pianeti particolarmente boscosi che ci forniscono legna per tutto l'anno un altro invece può fornirci di sali di manganese il mondo di questi mauv è accorto di ricchezze naturali così sono stati loro stessi a offrirsi di ripagarci fornendoci un certo numero di individui perché ci servano come aiutanti sono molto forti più di tutti i grandi primati che conosciamo e noi forniamo loro droghe mentali che impediscono loro di soffrire e così li trasformate in zombie De Vienne credette di aver compreso il significato di quella parola e si sentì indignato non è vero facciamo in modo che si sentano soddisfatti del ruolo che devono svolgere e che si scordino del loro passato personale non vogliamo farne degli infelici perché sono creature intelligenti e se da noi scoppiasse la guerra come interverreste sono 15 anni che vi stiamo studiando rispose il comandante il vostro mondo è ricco di ferro e ha sviluppato un'interessante tecnologia per ottenere l'acciaio probabilmente il vostro tributo sarà costituito dall'acciaio però solo questo tributo non basterebbe a rifonderci di tutte le spese sostenute abbiamo aspettato almeno il triplo del tempo programmato quante sono sono le razze che taglieggiate in questo modo chiese la creatura ignoro il numero esatto ma credo che siano più di un migliaio allora siete i padroni della galassia vero? un migliaio di mondi si sono distrutti per contribuire al vostro benessere adesso ho capito cosa siete voi la voce della creatura si stava alzando sempre più siete avvoltoi avvoltoi? chiese De Vienne che non riusciva a capire il significato di quella parola sono uccelli che divorano le carogne creature che aspettano che uno muoia di sete per poi cibarsi del suo cadavere De Vienne sentiva montare la nausea a quella descrizione oh no noi aiutiamo le specie protestò voi aspettate la guerra come gli avvoltoi se voleste portare aiuto dovreste impedire le guerre non limitatevi a salvare i sopravvissuti salvate tutti invece la coda di De Vienne si stava agitando per conto proprio ma come si fa a impedire una guerra tu lo sai? impedire una guerra è il contrario di farla scoppiare imparato un procedimento basta poi applicarlo all'incontrario il comandante era perplesso atterrate sul pianeta disse la creatura e spiegate la situazione a tutti De Vienne era deluso tutto quello che avevano fatto non era servito a niente atterrare sui pianeti improponibile disse rabbrividiva al solo pensiero di dover atterrare fra miliardi di primati non ancora domesticati l'espressione afflitta che gli era comparsa sul volto doveva avere un significato universale perché la creatura malgrado la loro estrema diversità la comprese al volo si slanciò verso il comandante ma i Mauvo lo afferrarono appena in tempo con un semplice scatto delle lunghe braccia muscolose la creatura stava gridando voi venere state fermi ad aspettare siete degli avvoltoi avvoltoi dovettero passare parecchi giorni prima che De Vienne si risolvesse a incontrare di nuovo il suo superiore in cuor suo si sentiva persino disposto a disobbedire al superamministratore che continuava a insistere perché i colloqui continuassero in quanto le sonde mancavano dei dati sufficienti a elaborare una risposta soddisfacente provò un attacco diretto un bluff ormai ne sappiamo abbastanza per trarre le nostre conclusioni il naso del superamministratore fremette poi ci passò sopra la lingua con calma con aria meditabonda forse per una soluzione di massima ma questa è una razza alquanto insolita però non possiamo permetterci di commettere alcun errore per fortuna però siamo capitati su una creatura molto intelligente a meno che per la sua razza non rappresenti l'essere medio ma quel pensiero era già di per sé abbastanza sconvolgente quel grande primate mormorò De Vienne mi ha fatto quell'orrenda descrizione di quell'uccello quel avvoltoio disse il superamministratore questo mi fa vedere le cose sotto una luce insolita da quando me l'ha descritto non sono più riuscito a sentirmi tranquillo ho paura che dovrò avanzare richiesta di essere sostituito questo avverrà solo a missione compiuta replicò fermamente il superamministratore nemmeno a me è piaciuta la descrizione di quel di quel mangiatore di carogne no occorrono altri dati De Vienne annui era ovvio che il superamministratore era ansioso di far scoppiare una guerra nucleare quanto lo sarebbe stato qualsiasi altro urriano infatti continuava a rimandare il momento della decisione più che poteva De Vienne si sentiva pronto per un altro incontro con la creatura fu una cosa insopportabile al massimo grado e fu il loro ultimo incontro la creatura aveva una ferita a una guancia forse perché si era opposto di nuovo ai Mauve anzi era chiaro che era stato così non era la prima volta che lo faceva e i poveri Mauve anche se non volevano farle male alcune volte l'avevano involontariamente ferita secondo logica avrebbe dovuto rendersi conto che i Mauve cercavano di non farle del male e quindi avrebbe dovuto calmarsi invece forse proprio perché conosceva tutti quei particolari aumentava la propria resistenza De Vienne si era ormai convinto dell'assoluta malvagità di quelle creature la conversazione vertè per diverso tempo su argomenti banali finché la creatura in tono rabbioso disse da quanto hai detto che ci osservate? da quindici dei vostri anni rispose il comandante tutto torna infatti i primi dischi volanti vennero avvistati poco dopo la seconda guerra mondiale quanto manca alla guerra nucleare? lo vorremmo sapere anche noi disse De Vienne in tutta sincerità poi si bloccò di colpo per paura di scoprirsi troppo pensavo che un conflitto del genere fosse inevitabile disse la creatura ma l'altra volta mi hai detto che avete aspettato molto più del previsto speravate che scoppiasse almeno dieci anni fa vero? non sono autorizzato a discutere di queste cose disse De Vienne ah no gli gridò l'altro e cosa volete fare adesso? per quanto ancora aspetterete perché non vi decidete a farla scoppiare voi? non aspettate troppo avvoltoi datevi da fare De Vienne scattò in piedi cosa hai detto? cosa state aspettando voi maledetti e aggiunse una parola mai captata alla radio poi aggiunse fanno così anche gli avvoltoi quando uno sta per morire ma ci mette troppo lo sai? non riescono ad aspettare più di tanto si buttano in picchiata sulla vittima e lecavano gli occhi poi aspettano ancora un po' finché poi lanciano l'attacco finale De Vienne si fece portare via di corsa si ritirò nella sua cabina per ore e ore stette male da morire non dormì per una quantità incalcolabile di ore nella mente gli continuava a risuonare la parola avvoltoio mentre l'immagine che essa evocava continuava a ballargli davanti agli occhi vostra nobiltà disse con tono deciso non ce la faccio più a parlare con quella creatura se vuole altri dati si cerchi qualcun altro anche il superamministratore aveva un'aria depressa capisco questa storia degli avvoltoi nemmeno io riesco a digerirla però avrà notato che quella creatura non è affatto scossa dall'idea di quell'uccello sembra essere immune a certe immagini forse se ne sono abituati deve far parte del loro abito mentale è orrendo non le procurerò altri dati capisco comunque tutti questi altri elementi rafforzano la prima decisione che speravo di non dover applicare affondò la testa fra le braccia conosco il modo per innescare la guerra nucleare davvero? e quale sarebbe? è una cosa molto semplice e molto diretta una cosa che non avrei mai osato pensare nemmeno lei avrebbe mai osato pensarla di che si tratta vostra nobiltà? Devien era atterrito la pace viene mantenuta da parte delle due potenze perché nessuna delle due osa assumersi la responsabilità dell'attacco se cominciasse uno dei due l'altro lo seguirebbe per rappresaglia Devien annui il superamministratore continuò se anche una sola bomba scoppiasse sul territorio di una delle due superpotenze la deduzione logica sarebbe che è stata sganciata dal nemico non starebbero ad aspettare un'altra bomba reagirebbero subito entro poche ore il conflitto sarebbe generale perché gli altri risponderebbero subito entro poche settimane terminerebbe tutto sì ma come facciamo a convincere una delle due potenze? non si può e questo è il punto la prima bomba verrà sganciata da noi come? balbettò Devien se lei studiasse attentamente la mente di uno di questi grandi primati si accorgerebbe che questa è l'unica risposta ma come si può fare? ne costruiremo una è facile poi la carichiamo su un'astronave e andiamo a scaricarla su una località popolosa popolosa? il superamministratore non lo guardava negli occhi è per avere il massimo effetto capisce? capisco mormorò Devien non poteva fare a meno di continuare a pensare agli avvoltui li vedeva come uccelli enormi immensamente più grandi delle piccole e inoffensive creature alate del suo paese natale li immaginava con ali a membrana e lunghi becchi affilati e li vedeva mentre calavano dal cielo in cerchi sempre più stretti per strappare gli occhi alle loro vittime si coprì la faccia con un moto convulso e chi guiderà l'astronave? chiese con terrore chi sgancerà la bomba? la voce del superamministratore era se possibile meno forte e decisa di quella del comandante non lo so beh io no disse Devien io non ce la faccio nessun urriano lo farà per nessun motivo il superamministratore aveva un'aria disperata sconfitta potremmo magari comandarlo ai MAUV e chi oserebbe dare quell'ordine? l'altro sospirò con forza interpellerò il consiglio dovrebbero avere tutti i dati ci sapranno dire qualcosa e così dopo 15 anni gli urriani smantellarono la loro base sulla luna non avevano combinato nulla la guerra nucleare sul pianeta che tenevano d'occhio non era scoppiata forse non l'avrebbero combattuta mai malgrado fosse consapevole dei possibili danni futuri Devien si sentiva scoppiare per la felicità non aveva voglia di preoccuparsi per il futuro quello che contava era che stava per lasciarsi alle spalle quell'orrendo pianeta guardò la luna che rimpiccioliva alle loro spalle fino a scomparire assieme al suo pianeta poi lo stesso successe al sole di quel sistema planetario finché rimasero solo le costellazioni anonime fu in quel momento che avvertì qualcos'altro unitamente a sollievo era il primo brivido relativo a quello che avrebbe potuto essere magari se avessimo avuto più pazienza tutto si sarebbe risolto per il meglio disse al superamministratore alla fine magari l'avrebbero fatta la loro guerra nucleare non credo rispose l'altro l'analisi mentale della creatura si bloccò e nello stesso istante anche Devienne capì quella creatura era stata riportata sul suo pianeta indenne gli avvenimenti delle ultime settimane le erano stati cancellati dalla memoria l'avevano lasciata presso un minuscolo centro abitato nelle vicinanze del luogo in cui l'avevano prelevata tutti avrebbero creduto in una perdita di memoria e avrebbero attribuito a questo fatto il suo deperimento fisico e organico ma il male che quell'essere aveva lasciato in loro se non l'avessero lasciata libera di parlare troppo magari si sarebbero convinti all'idea di preparare trasportare e sganciare la bomba per provocare la guerra sarebbero persino riusciti a trovare qualche sistema perché venisse sganciata senza il loro intervento ma la descrizione delle abitudini della voltoio aveva rovinato tutto anche la mente di Devienne e del super amministratore quando avevano trasmesso i dati a Urria l'effetto sul consiglio era stato terribile e infatti avevano subito dato l'ordine di smantellare la base e di fare ritorno non parteciperò più a spedizioni di colonizzazione affermò Devienne nessuno di noi farà più nulla del genere aggiunse l'altro in tono mesto le creature selvagge di quel pianeta spunteranno presto nella galassia e con tutte quelle creature sparse qui attorno sarà la fine di la fine del il naso di Devienne era agitatissimo sarebbe stata la fine di tutto la fine del bene che avevano sparso nella galassia la fine di tutto quello che avrebbero potuto ancora seminare nei secoli futuri forse se avessimo sganciato cominciò ma non riuscì a terminare a che pro parlarne non avrebbero mai potuto risolversi a farlo perché se l'avessero fatto si sarebbero riconosciuti simili a quei grandi primati nel modo di pensare e di agire e ci sono cose peggiori della fine di tutto gli avvoltoi volavano nella mente di Devienne grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti